Amici del software libero open source, benvenuti e bentornati in questa 143esima puntata del podcast di Marcos Box e questa volta on the road. On the road... Ah beh, lo smetto, sono stannato. Ebbene sì, questa puntata è una puntata on the road perché sono per strada, oggi non so quando e se tornerò e ho detto farmi fare questo piccolo esperimento e registrare una puntata dal telefonino direttamente per strada. Quindi si sentirete ogni tanto rumori di traffico e quant'altro e il traffico e quant'altro che qua è l'ora di punto, è mezzogiorno, mezzogiorno e mezza anzi, la gente sta correndo per andare a ficare i piedi sotto al tavolo e hanno ragione, hanno ragione. Iniziamo questa puntata. Apriamo questa puntata con, non un articolo, ma con una guida. La guida è stata pubblicata da Andrea Paz, che è un lettore di Marcos Box ed è un membro attivo della community Telegram di Marcos Box, alla quale vi invito a iscrivervi numerosi. Andrea Paz ha scritto diversi articoli per il blog e ha scritto adesso un nuovo articolo, anzi una guida, che spiega come creare uno swap ZRAM. Andatela a leggere, è una guida molto dettagliata, spiega tante cose ed è una soluzione molto utile per chi vuole guadagnare in velocità quando è costretto a utilizzare lo swap. Io personalmente non utilizzo più lo swap da quando ho un computer con 16g di RAM, quindi alla fine non riesco mai a swappare per l'uso che faccio via il computer, però in altri casi potrebbe rivelarsi molto utile. Andate comunque a leggere la guida, vi invito a commentare, a magari lasciare qualche commento se anche voi utilizzate una soluzione del genere o se avete qualche suggerimento per modificare, per rendere più completa e quant'altro. Insomma, perché ho visto che ci sono stati alcuni commenti al riguardo negli scorsi giorni. Andate a commentare il nome così. Passiamo adesso alle notizie riguardanti i rilasci di software. Qualche settimana fa c'è stato il rilascio della versione 3.1 di OpenShot. OpenShot lo conoscete di sicuro tutti quanti, è un editor video gratuito e open source, ma soprattutto molti piattaforma, quindi lo potete utilizzare anche se utilizzate Mac OS e Windows o Linux. Questa nuova versione, la versione 3.1, introduce diverse novità che vanno a migliorare nelle prestazioni di usabilità. Le principali novità sono oltre 400 profili video completamente ricercabili, un miglioramento della rimappatura temporale con un miglior ricampionamento dell'audio e supporto per la cuva di Bezier, un sistema di annullamento ripristino migliorato, che quindi include anche azioni di raggruppamento, miglioramenti nelle finestre di dialogo, anteprima e DVD clip, un effetto di tascaria migliorato, correzioni di memory clip, prestazioni migliorate con gli oggetti frame mapper, quindi con ottimizzazioni della cache, ottimizzazioni specifiche per queste funzionalità e altre. Ovviamente mancano poi tutti quanti una serie di correzioni di bug dei vari widget e sono stati fatti anche alcuni ritocchi per quanto riguarda la guida e i documenti in linea, quindi se avete necessità della documentazione. Voi utilizzate OpenShot? Perché so che la maggior parte degli utenti su Linux vuole anche per via della pubblicità, gratuita che viene fatta da parte di diversi youtuber, molti utilizzano KDN Live, però so che alcuni di voi resistono con lo zocco duro e amano OpenShot, quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo applicativo, se lo utilizzate, se lo preferite e perché soprattutto lo preferite a KDN Live. Io non vi metto un parerio, io utilizzo quello che capita di solito, quindi se mi trovo principalmente con KDN Live quando sto su distribuzione, perché utilizzo però più KDE, quindi me lo trovo per installare tra le applicazioni di KDE, quindi alla fine utilizzo quello. Però in passato ho utilizzato anche OpenShot per fare quei piccoli montaggi video che faccio io, perché io faccio davvero poca roba, come potete vedere, ripubblico soltanto le puntate del podcast ultimamente con il formato video per YouTube e poi qualche altra registrazione che faccio, quella, ma il editing mio è proprio misero, 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 basiare. Comunque, ripeto, fatemi sapere che cosa ne pensate se lo utilizzate. Continuiamo a parlare di applicativi che vengono aggiornati e parliamo adesso di Firefox 112, la nuova versione del famoso browser web o multipiattaforma che resta lì a sfidare in perterrito tutta quanta il malasma di browser basati su Chromium. Vi varrà una resistenza, come dico sempre io, anche se vi faccio un piccolo tiratino d'orecchio, perché non lo utilizzo proprio al 100% come browser principale, sono una persona cattiva. Quali sono le novità di Firefox 112? Ci sono diversi miglioramenti che sono stati fatti. Adesso, facendo clic con il tasto destro del mouse sui campi delle password, viene visualizzata un'opzione per mostrare la password salvata, quindi è una cosa che aspettavo da diverso tempo. Io sono uno di quelli smemorati che magari alcune password, quelle non essenziali, le salva, però poi non me lo vado mai a ricordare, meno male che c'è questa possibilità di farlo al volo direttamente, senza andare nelle impostazioni del nostro password, che è una scocciatura. Altra novità riguarda gli utenti Ubuntu, che adesso possono importare i dati da Chromium installato tramite Snap. Attualmente questa funzionalità funziona soltanto se Firefox, a sua volta, è installato come pacchetto Snap, quindi da Snap a Snap, però gli ingegneri di Mozilla hanno detto che stanno lavorando per risolvere questo problema, e questo fa piacere che Mozilla sta continuando la collaborazione con Canonical per migliorare la versione in formato Snap di Firefox, perché sapete che su Ubuntu, sull'ultimo Ubuntu, Firefox lo dovete beccare per forza in formato Snap. Però è una cosa anche un po' positiva, perché alla fine gli aggiornamenti sono più rapidi. Sapete poi che Mozilla ha fatto anche un altro accordo con Linux Mint, e anche in quel caso fornisce aggiornamenti più rapidi per Firefox. Mentre se vi ritrovate su altre distribuzioni, per esempio ultimamente sto provando Fedora, gli aggiornamenti di Firefox non sono rapidissimi nell'arrivare, perché il team di Fedora sta sempre a manomettere per mettere patch, correzioni, bug. Ultimamente, per esempio, ha ritardato il rilascio della versione 112 di 4-5 giorni, che non è un dramma, per carità, però per chi soffre di aggiornita è una cosa che dà fastidio. Ha ritardato il rilascio, indovinate un po', sempre per il nostro amato Wigand, che hanno fatto una serie di correzioni per indagare. Io preferisco, continuo a preferire un approccio più rapido per gli aggiornamenti di Firefox, soprattutto perché spesso ci si trova davanti anche a correzioni di problemi cridici, perché adesso è stata aggiunciata il rilascio di Firefox 112, però è subito stato fatto una minor rilascio di emergenza, nella giornata di ieri, che serve per andare a correggere un problema grave, che è la gestione dei cookie. E chissà quando lo vedremo su Fedora, mentre se avete Firefox in formato snap, arriva subito l'aggiornamento. Ripeto. Lo so, sono noioso quando ripeto sempre questo fatto. Però io vi ho detto, preferisco che applicazioni come i browser di sistema vengano rilasciate e aggiornati, gli aggiornamenti arrivano automaticamente su tutte le distribuzioni subito, senza stare ad aspettare patch contro patch e quant'altro. E quindi ben vengo un approccio con Firefox in formato snap, rilasciato in collaborazione con Mozilla, o magari anche un Firefox in formato flat pack rilasciato in collaborazione con Mozilla. Preferisco questi tipi di approcci per quanto riguarda gli aggiornamenti. Che poi? Facciamoci anche un altro. Lo so, questo è un problema dovuto a una serie di dipendenze che ha Firefox, però vedete che cosa succede con i browser abbassati su Chromio. Se voi avete installato Google Chrome in formato dev o RPM, avete gli aggiornamenti non appena vengono propinati, non appena vengono rilasciati da parte di Google, quindi automaticamente vi arriva l'aggiornamento se avete installato il pacchetto e subito, tempo zero, quando c'è un aggiornamento critico, ve lo ritrovate installato. Ed è una cosa buona e giusta. La stessa cosa succede con altri browser tipo Vivaldi, tipo Edge, tipo Brave e quant'altro. Quindi quando vengono rilasciate la fonte è così. Firefox invece, per una serie di problematiche, anche onnesse alle dipendenze e quant'altro, e anche dovuto al fatto che viene integrato all'interno dei repository delle principali distribuzioni, non c'è questo sistema di aggiornamento. E' una cosa che a volte è sconveniente. Vabbè, fatemi sapere voi che cosa è pezzato. Torniamo comunque a parlare dei ragionamenti di questa versione nuova di Firefox. Adesso è possibile chiudere le schede facendo clic con il tasto centrale del mouse sugli elementi del rilenco schede. E' sempre possibile chiudere una scheda utilizzando la scorciatoria, però la stessa scorciatoria adesso va anche a ripristinare la sessione precedente se non ci sono più schede chiuse. Infine, ci sono stati dei miglioramenti della qualità del downscaling video e una riduzione dell'utilizzo della CPU per i video decodificati via software sulle GPU interne, però in questo caso in Windows, quindi non è una cosa che ci interessano i pinguini. Utilizzate Firefox, fatemi sapere. E chiudiamo questa puntata del podcast di Marcosbox parlando del rilascio di Fedora Workstation 38 che è stato rilasciato lo scorso 18 aprile, quindi ieri per chi sta sentendo questa puntata il giorno esatto del rilascio. La community di Fedora, dicevo, ha annunciato il rilascio di Fedora Workstation 38 per la prima volta in perfetto orario, quindi un avvenimento epocale. Negli ultimi anni non capitava mai che Fedora riuscisse a mantenere, rispettare la tabella di marcia quella dei rilasci, perché sapete bene, il team di Fedora è un team molto pignolo, molto perfezionista e quindi fissa la data del rilascio, ma se ci sono dei bug fastidiosi e quant'altro, non danno il via libera e quindi non viene pubblicato il rilascio di Fedora Slit di solito per una settimana. Quindi sono stati poi i casi addirittura che sono stati molto in là col tempo di delay, di ritardi rispetto alla tabella di marcia. Fanno bene sotto certi punti di vista e fanno male per tutti quanti quelli ansiosi di provare. Anche se io rientro nella categoria di quelli ansiosi di provare, sto utilizzando Fedora 38 nella sua edizione principale, ormai da prima del rilascio della versione beta, se non ricordo mai. E che direi, mi sto trovando bene con questa distribuzione. La sto utilizzando nell'edizione principale quella con nome è che come sapete Fedora War Station 38 rilascia sempre ogni rilascio, ogni maggiore rilascio della distribuzione si allinea all'ultima versione di Gnome e in questo caso utilizza Gnome 44. Di Gnome 44 vi avevano parlato su un articolo dedicato sulle pagine di Marcosbox quindi è inutile che mi dilunco qui in questa puntata del podcast. Però troviamo anche altre novità su Fedora 38. La prima riguarda la funzionalità di riposito di terze parti che adesso permette di abilitare facilmente una selezione di riposito di software aggiuntivi senza filtri. Perché senza filtri? Perché in passato veniva utilizzata una versione filtrata scusate lo sapete che sono R mancante. Dicevo Fedora in passato utilizzava una versione filtrata di Flattab che includeva soltanto un piccolo numero di applicazioni. Adesso con Fedora 38 finalmente questo filtraggio dei contenuti di Flattab non avviene più e adesso abbiamo accesso a tutto quanto il catalogo Flattab. I repositori di terze parti possono essere abilitati manualmente sono disabilitati per impostazione predefinita però che ne so se noi ci troviamo già che ne andiamo a chiedere di installare i dati a proprietà e quella sarà vede l'utilità di abilitare quant'altro se no c'è l'apposita funzionalità all'interno. di GNOME software per la gestione. Le altre novità di Fedora Workstation 38 riguardano l'arrivo dell'ultima versione del kernel Linux della versione 6.2 che ovviamente include il supporto hardware 6 su correzioni di barri e miglioramenti delle prestazioni. C'è anche stata fatta qualche modifica per quanto riguarda la gestione dei caratteri predefiniti. i caratteri noto ora per impostazione predefinita li troviamo anche per lingue Khmer e Thai se qualcuno di voi parla di Khmer o parla di Thai grandese può fare piacere questa cosa è stata resa più semplice la creazione dei profili grazie ai cambiamenti nella configurazione della bid predefinita e poi RPM adesso utilizza il parser SQL OpenGP scritto in Rust per fare una maggiore sicurezza tutti quanti utilizzano Rust 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 e lo troviamo dappertutto infine la famiglia di Fedora si allarga perché come vi avevo anticipato negli scorsi mesi è arrivata una nuova spin ufficiale quella con BUDGY desktop environment quindi se siete amanti di questo desktop environment basato su GNOME sui GTK che ricorda l'interfaccia di Windows beh adesso potete utilizzarlo in tranquillità direttamente dai repositori della list quindi non dovete stare a complicarvi nulla e quant'altro fatemi sapere se anche voi avete provato Fedora 38 ci tengo anche ad aggiungere un'altra cosa in questa puntata del podcast molti di voi mi hanno chiesto una video recensione di Fedora 38 ma non so a mio avviso ormai fare recensioni di distribuzioni lascia un po' il tempo che trovo perché fare una recensione di Fedora 38 arrivare a fare una recensione di GNOME 44 quindi né più né meno perché come avete visto le piccole modifiche che sono state operate non sono modifiche sostanziali anche voi che vi trovate davanti a una Fedora vi trovate una distribuzione qualunque qualsiasi non ci sono personalizzazioni di sorta non è come una Ubuntu dove magari vanno appunto personalizzano l'interfaccia utente vanno a cambiare spesso e volentieri i temi e quant'altro vanno a fare una selezione mista di software che ne so mettono applicativi strettamente GNOME magari che il terminale utilizza una versione precedente invece Fedora utilizza l'ultima versione di GNOME 44 negli interessi gli applicativi sono allineati non è il solito mischio ad un punto che alcune versioni hanno un numero di versione precedente per qualsivoglia motivo che non vengono inclusi quindi è esattamente un GNOME 44 Fedora 38 è un GNOME 44 è inutile questa fare la recensione ed è anche inutile che vi faccio anche la consulità guida post installazione perché di fatto si tratta semplicemente in questo caso di abilitare RPM Fusion e installare i vostri software preferiti non c'è nient'altro da aggiungere fatemi sapere voi ripeto che cosa ne pensate di Fedora 38 se l'avete provata se l'utilizzate come distribuzione principale se la tenete virtualizzata perché non lo so non vi piace perché non vi fidate di Fedora non lo so fatemi sapere voi lasciando un commento sulle pagine di Marcosbox ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 143 puntata del podcast di Marcosbox nel frattempo stanno avviando macchine a profusione qua a fianco ci riascoltiamo no anzi non ve lo dico più ci riascoltiamo la prossima settimana perché so che mentiri ci riascoltiamo prossimamente con una nuova puntata del podcast di Marcosbox e come sempre vi ricordo iscrivervi numerosi alla community Telegram di Marcosbox e vi invito anche ad iscrivervi al canale ufficiale Telegram di Marcosbox se potete utilizzare come feed reader e di seguire il canale dedicato alle offerte Telegram offerte Amazon scusate su Telegram di Marcosbox che potete utilizzare per supportare il blog sapete bene come funziona acquistando uno degli articoli presenti nel canale nel canale Telegram trovate dei link affiliazione ad Amazon che potete utilizzare cioè che potete acquistare i prodotti direttamente lì e Amazon mi darà una piccola percentuale sull'acquisto davvero molto misera però ma era da quindi se volete potete supportare i blog in questa maniera potete supportare anche i blog utilizzando una VPN quindi utilizzando NordVPN utilizzando Surfshark utilizzando Atlas VPN e anche in questo caso sulle pagine di Marcosbox trovate un articolo dedicato dove trovate i link affiliazione detto questo un saluto a tutti quanti lunga vita e prosperità e ci riascoltiamo prossimamente con una prossima puntata del podcast di Marcosbox ciao ciao